Arnaldi contro Iji Kata, spero si pronunci così, ha un passo dal baratro e sotto 7-6 nel primo set adesso nel tie-break è sotto 6-4, però ha già annullato 3 match point 5 match point, 6 pari, forza Matteo da 6-3 in questo tie-break, 7-6 Arnaldi con servizio a disposizione, forza Matteo Arnaldi fa all-in con una palla corta, ma il giapponese ci arriva, ma deve arrivare anche alla seconda risposta di Arnaldi che però poi viene bucato da un contropiede di dritto 7 pari, un altro servizio per Matteo tira fuori il suo dritto però, due servizi a Iji Kata, 8-7 per lui Iji Kata centra il sesto match point su una steccata malamente di Arnaldi che riassume questa partita peccato